Italia e Croazia da oggi più vicine. In poco più di quattro ore da Pescara si raggiunge il porto di Kvar, viaggiando con auto, moto e camper al seguito, sull'unità veloce e più grande e confortevole del Mediterraneo, il Croazia Jet. La nuova linea è stata presentata ieri nel corso di un incontro che si è svolto a bordo del Croazia Jet. Io volevo ringraziare tutti i presenti e soprattutto credo che oggi sia una giornata molto importante per il porto e la città di Pescara. Riprende un collegamento storico da parte nostra della SNAV, grazie un po' alla pressione ottenuta dall'ex sindaco qui presente e che ringrazio, dal presidente della Camera di Commercio e un po' da tutti gli attori presenti. La nuova linea dunque risalda l'unione tra l'azienda storica dei collegamenti marittimi in Adriatico, la SNAV ed il porto di Pescara, ritornando a nuova vita grazie all'impegno delle istituzioni, regione, Camera di Commercio, provincia e comune di Pescara. Io tengo molto alla città, è poco importante di chi sia il merito, gli uomini passano e i ruoli cambiano, quello che è importante è che oggi per Pescara ci sia di nuovo questo collegamento su cui avevamo lavorato come precedente amministrazione, con il vice sindaco Fiorilli, ma anche con la Camera di Commercio e facendo squadra. Oggi è un pomeriggio molto importante perché dopo troppo tempo in cui questo porto è rimasto in ginocchio, dopo troppo tempo in cui è mancato un collegamento con l'altra sponda dell'Adriatica, ecco che adesso riprende questa linea ed è importante perché naturalmente è un punto di partenza, come è stato detto, e questo è inevitabilmente legato anche al destino, allo sviluppo dello scalo portuale. Oggi il caso ha voluto che ci fosse un passaggio significativo in materia in Consiglio Comunale, allorché c'è stata in qualche modo una presa d'atto del medesimo PRP, Piano Regolatore Portuale, che adesso va a Roma al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi tornerà in Regione Abruzzo. Le norme, gli strumenti normativi servono a questo, cioè a fornire aiuti e supporti per che queste grandi strutture, queste grandi infrastrutture, anzi, possano avere un futuro operativo e efficace. Il dragaggio del porto ha consentito di riprendere questo collegamento e la SNAV non si è fatta cogliere di sorpresa immettendo in linea, fino al 7 settembre, il Croazia Jet, con corse giornaliere tra Pescara, Cvar e Spalato, completando così il programma dei collegamenti tra Italia e Croazia. La SNAV, infatti, ha un altro pilastro sulla rotta Ancona-Spalato, in cui è impegnato con successo il traghetto SNAV Adriatico.